Nome? Maurizio. Claudio. Cognome? Tonetti. Gatti. Età? 53. Eh, 63. Luogo di nascita? Genova. Savigliano, provincia di Cuneo. Data di compleanno? 18 maggio. 15 marzo 1952. Leidi. Carica CDP? Presidente. Presidente eletto. Da quanti anni sei socio CDP? 23. Dall'84. Il tuo maestro professionale? Ray Williams, Klaus Lang. Giorgio Vogel. Tre parole per riassumere il 17esimo congresso internazionale CDP? Divertente, nuovo, futuro. Scientificità, autorevolezza, credibilità. Mare o montagna? Tutte e due. Mare. Boxer o slip? Ah, dipende. Boxer. Curete o ultrasuoni? Meglio gli ultrasuoni. Curete. Carne o pesce? Pesce. Pesce. Denti o gengive? Assolutamente gengive. Gengive. Twitter o Facebook? Facebook. Facebook. Oli essenziali o clorexidina? Clorexidina. Clorexidina. L'obiettivo primario della tua presidenza? Riportare la parodontologia al centro dell'odontoiatria. Far divertire i soci insegnandogli qualcosa, stando insieme bene. Obiettivo raggiunto finora? In parte. Cosa fai quando non lavori? Lavoro. Lavoro in giardino, sulla ruspa, vado in moto, vado in barcavela, faccio di tutto e di più. Sei riuscito a farlo durante la tua presidenza? Assolutamente sì. Ci provo disperatamente a cercare qualche spazio. Zucchero o sale? Nel uno o nell'altro. Pepe? Sale. Destra o sinistra? Destra. Destra. Bionde o amore? Eh, dipende. Bionde. Tutte e due. Parodontite o prostatite? Meglio la parodontite, mille volte. Eh, parodontite, meglio pensare alla parodontite. Cic o cao? Cao. Che brutta domanda. Tutte e due. Cic o lips? Lips. Oh? Che vuol dire? Ah, cic o lips, vabbè. Lips. Il tuo sport preferito? Lo sci. Andare in barcavela. Cosa volevi fare da grande? Eh, volevo fare l'astrofisico. Il marinaio. Ci sei riuscito? Direi proprio di no. No. Tre aggettivi per descrivere Claudio? Claudio è un grande, bellissimo e simpatico. Tre aggettivi per descrivere Maurizio? Preparato, bravo, autorevole. Cosa regaleresti a Claudio? Una bella cravatta. Cosa regaleresti a Maurizio? Un libro di mare, avventure di mare. Certe volte manderesti Claudio a? A veleggiare. Certe volte manderesti Maurizio a? Ah, sicuramente, quante volte l'ho fatto. Hai dieci secondi per dire cosa è CDP per te? CDP è la mia vita, quello da dove sono partito, l'incubatore dove mi confronto, i miei amici. CDP per me è amici, crescita professionale, simpatia. Libro preferito? Critica della ragion pura. Il vecchio il mare. Film preferito? La pantera rosa. Non mi ricordo il titolo. Piatto preferito? Una bella pasta. Spaghetti aglio e olio. Sai cucinare? Sì, me la cavicchio. No. Prima persona singolare del passato remoto di cuocere. Ah, sono messo male, non so cucinare. Cocetti. O cuosi, non lo so. Società italiana di? Parodontologia e implantologia. Parodontologia. La prima persona in CDP che ti viene in mente? Giorgio Fogel. Giorgio Fogel. 8 e 9 maggio. Tutti a? Riccione. Firenze, Leaders Forum. Ho sbagliato la data. 3 e 6 giugno. Tutti a? Londra. Londra. Fai il fischio più forte che puoi? Ah, guardate, sono messo male. Posso al massimo bisbigliarlo. Non puoi rinunciare a? Star bene con gli amici, star bene in famiglia. Vacanze al mare. Vorresti rinunciare a? Tanta burocrazia, tante erogne, soprattutto quando sono in mezzo alla cura dei miei pazienti. Troppe erogne di lavoro. Di una parolaccia. Non son capace. Cazzo. Cosa invidia Claudio? Le orecchie. Cosa invidia Maurizio? Controllo di sé. Il difetto principale di Claudio? È troppo modesto. Il difetto principale di Maurizio? Uno solo? Hai 10 secondi per mandare un messaggio a chi vuoi tu. Amici, a tutti i soci della CDP e chi non lo è ancora, venite in CDP. Alla mia famiglia, sopportatemi ancora un pochino. Sto entrando nel vivo della situazione, ho tanto bisogno di voi. Hai 10 secondi per mandare un messaggio a Claudio. Claudio, ancora 8 mesi e poi tocca a te tirare il carro. Vai a tutta che abbiamo bisogno di te. Hai 10 secondi per mandare un messaggio a Maurizio. Maurizio, abbi pazienza, sono fatto così, devi sopportarmi. Vedrai che ce la faremo arrivare bene, insieme e in amicizia. Mandatevi un bacio. A Maurizio? Salutatevi. Ciao Mauri.